Napoletano classe 1994, in forza alle fiamme oro, Luca Curatoli e medaglia d'oro nella sciabola maschile giovani. Un risultato conquistato con classe determinazione ai campionati da poco conclusi a Plovdiv in Bulgaria, che riporta in Italia un titolo che nella categoria under 20 mancava da 27 anni. L'ultimo a conquistarlo fu infatti Toni Terenzi, atleta del gruppo sportivo della Polizia di Stato ai Mondiali di San Paolo nel 1987. Accompagnato dai genitori, dal maestro Leonardo Caserta e dal questore Guido Marino, il giovane schermitore è stato ricevuto oggi in comune dal sindaco Luigi De Magistris, che gli ha consegnato una targa in segno di riconoscimento. Sicuramente è stata una grande emozione poter rappresentare l'Italia e soprattutto Napoli, che nella scherma ha sempre vissuto un periodo molto bello e stiamo riuscendo a portarlo avanti. Ultimamente, dopo Dico Chiuzzi, secondo le Olimpiadi, c'era stato un periodo di assestamento e siamo riusciti a portare un'altra bella medaglia. Adesso ho una stagione assoluta perché sono uscito dall'under 20 e spero di poter fare anche qualche risultato per poter arrivare anche mondiali, europei, olimpiadi, non si sa mai, anche assolute, non sarebbe una brutta cosa. Grazie. Grazie.